La storia di Beatrice Vio, per tutti oramai Bebe, ha commosso tutti coloro che l'hanno conosciuta, anche grazie alla sua presenza nella trasmissione di Italia 1, Gli Invincibili, di Marco Berri, originaria di Moliano Veneto, nel Trevigiano, giovanissima promessa del Fioretto, all'età di 10 anni una grave malattia ha comportato l'amputazione dei quattro arti. Ma lei, Bebe, non si è arresa ad un destino che le ha voltato le spalle, ha voluto fortemente tornare in pedana e tirare di scherma. Sono passati tre anni, Bebe ce l'ha fatta ed eccola oggi a Pescara per portare il suo messaggio di speranza. Quale messaggio ti senti lanciare ai ragazzi che sono qui presenti in aula, ma anche a chi ci sta guardando? Che lo sport fa bene, è divertente, aiuta tantissimo e niente, di provare, di farsi vedere e divertirsi facendo sport. Tu hai dimostrato una straordinaria forza di volontà nel continuare a fare quello che ti piaceva di più? Non vivevo senza la scherma, sono uscita all'ospedale con l'idea che esco per tornare a fare scherma, che per uscire anche a me. Senti, il tuo sogno sono le Olimpiadi ovviamente? Diciamo che il mio sogno sono le Olimpiadi però quelle di Rio de Janeiro, sia con la scherma che con l'atletica. Invece quali sono stati i tuoi risultati in questo periodo quando hai fatto le tue competizioni? L'anno scorso ho vinto i regionali del Veneto, i regionali dell'Emilia Romagna, gli italiani Under 18, sono arrivata a seconda agli italiani assoluti e ho vinto il mondiale Under 18. Bocca al lupo! Crepi! Una giornata speciale quella di oggi con l'esibizione di Bebe e tra gli altri della campionessa di Fioretto Elisa Di Francisca nella sala del Consiglio Comunale. Diversamente abili, ugualmente atleti, voluta dall'assessore comunale al sociale Guido Cerolini. Il messaggio di oggi è che lo sport deve essere realmente per tutti e più che mai lo è oggi dove vedremo realmente delle esibizioni di ragazzi disabili che tireranno di scherma pur dovendo stare seduti su una carrozzina. Quindi il significato di tutto è abbattere non solo delle barriere architettoniche, lo cominceremo a fare nei prossimi giorni proprio qui con la messa a norma di Piazza Italia, ma veramente un abbattimento di barriere culturali e mentali anche nella nostra città. La donazione di una pedana poi ai ragazzi di Pescara? Esatto, è prevista la donazione di questa pedana che andrà al circolo scherma Flaiano di Pescara, un circolo di scherma che già da anni organizza corsi per disabili.